Lui è Gianni Messina, 34 anni di Porto Empedocle, e il 14 ottobre del 2003, a tarda sera, verso le ore 23, è stato arrestato dai carabinieri al porto di Porto Empedocle. Lui è l'avvocato Nino Gazziano, ed insieme alla figlia Vincenza, il penalista di Santa Elisabetta, presidente dell'ordine di Agrigento, ha presentato il ricorso che ha fruttato a Gianni Messina 211.000 euro. Sì, perché lui, Gianni, fratello di Gerlandino Messina, è stato inquisito per estorsione nell'ambito dell'inchiesta antimafia, cosiddetta fortezza, poi ammanettato, poi detenuto due anni e otto mesi, poi processato in primo, secondo grado e Cassazione, ed è stato assolto. Dunque, quindi, la Corte d'Appello di Palermo ha liquidato il risarcimento danni per ingiusta detenzione. E lo scorso 20 aprile, la Corte d'Appello di Palermo ha risarcito con 5.000 euro un altro fratello di Gianni, lui, Valentino Messina, 38 anni, arrestato il 17 febbraio del 2003, nell'ambito del blitz antimafia, cosiddetto Ombra. Valentino Messina, difeso da lui, l'avvocato agrigentino, Salvatore Pennica, fu detenuto in carcere per 21 giorni, e poi prosciolto perché è estraneo ai reati contestati. Ed ancora, lui è Francesco Gastoni, 31 anni, di agrigento, ed è stato arrestato dalla squadra mobile la mattina dell'11 luglio 2005, il giorno delle blitz antimafia, cosiddetto San Calogero. Francesco Gastoni, commerciante, accusato di un attentato incendiario contro uno stabilimento balneare a San Leone, è stato detenuto in carcere 207 giorni, poi archiviazione. Adesso il risarcimento danni liquidato dalla Corte d'Appello palermitana, 59.515 euro.